Sulla mia intenzione medievale, poi la luce delle candele, io quando vedo una luce della candela, non so, ho come delle immagini, immagini antiche che mi portano appunto al meglio evo e poi vedendo queste ragazze, piano piano, ho sempre più visto alcune di loro nel contesto medievale e quindi abbiamo adattato la recitazione, il testo stesso, i costumi e tutto quanto, ma non l'ho fatto la sola, loro mi hanno aiutato, ognuna a cercare un certo modo di consumirsi vestiti, i vari gadget, le boroncine, gli oggetti di scena e questo è quello appunto che secondo me significa stare in una compagnia, vedere tutto quanto insieme, tutti insieme e poi nel contesto medievale la situazione ci è piaciuta, ci siamo divertiti. Ritornando invece alla situazione dell'agere proprietà autobiografia, beh diciamo che questo testo vede molte donne, come abbiamo detto prima, ecco mi stavano uscendo anche i ragazzi che avevano dispacito a due della stessa personalità, io mi sento vicino a alcune di loro e credo che vedendole durante il lavoro appunto, mi sono ritrovata in ognuna, in ogni loro atteggiamento. Io ho uno stile di regia abbastanza particolare, nel senso che dovevo dire piccole direttive ma non dico mai tutto quello che devo fare, perché ho un punto di regia così diverso, non mi piace essere dittatrice, autoritaria, non mi piace imporre la mia arte, perché loro hanno la loro arte, e pian piano ogni giorno vedevo tirare fuori da loro quello che avevo nella mia mente, ma senza dire loro quello che volevo, è questa cosa, la magia che pian piano mi mandava sempre davanti. Io ho dedicato il giornale intero a questo spettacolo, a questi spettacoli diciamo, e vedevo ogni giorno il loro con la perfezione, ma non perfezione tecnica, sinistica, con la perfezione di interperazione, di tensione, che io avevo nella mia mente. Ma ogni giorno mi propone fare qualcosa di diverso. Ad esempio, l'alter ego, la veterinata, ogni giorno tirano fuori una parte diversa di se stesse, e poi hanno messo insieme tutte queste parti e le hanno racchiuse nel loro personaggio. Alla fine, ieri quando ho visto l'ultima scena, appunto, della prova generale, mi sono emozionata, ed è stata per me veramente una gran cosa, perché vedere così, tutte entusiaste, contente, di queste semplicità, di quest'arte, loro, nostra, per me è stata veramente una cosa grandiosa. Io ringrazio tutte loro, perché hanno veramente realizzato uno dei progetti antidegono di più. Vedere così, un testo che io ho riscritto, un testo che parla, magari di una mia infanzia, di una mia vita, di una famiglia, di me stessa, mi ha portato veramente in alto. Ringrazio tutte loro. Ringrazio tutte loro. E quindi ho deciso di prendere questa frase, appunto, di leggere a voi. Il teatro è uno degli strumenti più efficaci, più utili per l'edificazione di un paese. Un barometro che ne registra la grandezza è con il defino. Un teatro avvertito e ben orientato a tutti i numeri, dalla tragedia a un da debil, può trasformare in pochi anni la sensibilità ai popoli. Il teatro è una virtù una libera, nella quale si possono portare alla luce mediante senti venti. Le leggi eterni del cuore e dei sentimenti umani. Io credo che tutti quanti dovrebbero essere un po' più sensibili al teatro. Il teatro è sensibile a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.